È incredibile come ci si sia dimenticati che proprio oggi, il 17 maggio, occorre un anniversario che io immagino la sinistra non voglia ricordare, e cioè quella della morte del commissario Calabresi. Alle 9.15, poco distante da qua, in una traversa di Corso Vercelli, uscì di casa, all'epoca il commissario torturatore, come l'aveva definito un appello dell'Espresso, usciva di casa senza scorta, senza genti, oggi verrebbe da ridere, eppure era un periodo davvero caldo, e due colpi lo ammazzarono, uno alla testa e uno alle spalle, con una P38. Poi furono condannati per quell'omicidio quattro persone, furono due, erano Bonpressi e Marino, gli esecutori materiali, e Pietro Stefani e Sofri vennero considerati i mandanti morali. Fu la fine di una grande campagna orribile, incredibile di stampa, che era partita da lotto continua per la morte dell'anarchico Pinelli, ed era finito a un appello orribile, ignobile, fatto dall'Espresso, firmato da circa 800 persone, c'erano di tutti, da Bobbio a Fellini, da Carlo Ripa di Meana a Deco, c'era Paolo Mieli, c'era di tutto, Primo Levi, c'era Moravia, Carlo Levi scusatemi ovviamente, c'era di tutto all'interno di questo appello, che diceva che il commissario non solo era un torturatore, ma era il responsabile della fine di Pinelli. Ecco, cosa ci ricorda il fatto che nessuno oggi si ricordi di quella morte e di quella campagna di stampa, che le campagne di stampa della sinistra sono molto frequenti nella storia di questo paese e quando escono queste campagne di stampa sono sicure del fatto loro, c'è già un colpevole, non c'è bisogno di un processo, c'è un torturatore, c'è un razzista, c'è un fascista, c'è uno che è in grado di fare dei colpi di karate perché era andato in Giappone, c'è detto di tutto del commissario Calabresi, nel senso che quando la sinistra si mette a fare le sue battaglie, beh, insomma, la stampa corre dietro. Dite che forse sono un po' prevenuto, no, non sono prevenuto, perché chi si ricorda quegli anni, io in quegli anni ovviamente non posso ricordarmeli se non avendoli letti, insomma, trova orrore verso certe censure, certi tic che la stessa identica stampa di sinistra oggi applica a nemici molto diversi, con la stessa sicurezza con cui Calabresi era un torturatore, oggi alcuni uomini politici e alcuni esponenti intellettuali sono altrettanto ignobili per questa sinistra che non ricorda la grande sua colpa, cioè quella commessa 47 anni fa, 48 anni fa, con appelli e orribili, come possiamo dire, ma orribili è poco per dire vigliacche campagne di stampa nei confronti di un servitore dello Stato. Ciao.